Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 121esima puntata del podcast di Marcosbox. Rieccoci qui amici in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le ultime notizie del mondo del software libero open source delle ultime settimane appena trascorse. Iniziamo con dire che questa puntata sarà quasi totalmente dedicata a GNOME e distribuzioni basate su GNOME perché c'è stato il rilascio della versione 42 di GNOME. Questa nuova versione giunge dopo 6 mesi di lavoro da parte della comunità di GNOME e include un numero significativo di nuove funzionalità oltre che molti miglioramenti che rendono GNOME più produttive e prestante. Ho trovato questo risultato. Si è attivato l'assistente di Google. Grazie all'assistente di Google per esserti attivato in un momento inopportuno. Se ti chiamo non rispondi. Quando non ti chiamo rispondi. Va bene. Allora, torniamo a noi. Torniamo a GNOME. Quali sono le novità di GNOME 42? Beh, la prima è lo stile scuro. C'è una nuova preferenza globale per lo stile dell'interfaccia utente scura che arriva in GNOME 42 che può essere utilizzata per richiedere che le applicazioni utilizzino uno stile dell'interfaccia utente scuro anziché chiaro. La nuova impostazione può essere trovata nel pannello Aspetto nelle app impostazioni ed è seguita dalla maggior parte delle applicazioni di GNOME. Tutti gli sfondi di GNOME supportano la preferenza dello stile scuro per adattarsi quindi al tema scuro globale. Sotto il cofano il nuovo stile scuro consente alle app di fornire le proprie impostazioni di stile che sono indipendenti dalle preferenze di stile di sistema. Questo in solitù che cosa ci consente di fare? Ci consente di cambiare le singole applicazioni in chiaro o scuro se preferiamo utilizzarle in quel modo. Quindi così come noi più ci aggrada se per esempio vogliamo utilizzare tutto chiaro ma quella singola applicazione in scuro possiamo farla. L'altra novità riguarda la nuova esperienza che si ha nella funzionalità di screenshot. GNOME 43 viene fornito con una funzione di screenshot ridisegnata che rende estremamente facile acquisire schermate e registrazioni dello schermo tutto grazie a questo unico strumento, questo stesso strumento, questa nuova applicazione per gli screenshot. La nuova funzionalità screenshot consente di acquisire schermate di diverse aree di lavoro dello schermo nonché di singole finestre e sempre con lo stesso strumento è anche possibile creare registrazioni dello schermo e di aree dello schermo selezionate. Ci sono poi le varie applicazioni che sono state aggiornate alle GTK4 e c'è l'arrivo di ribadwaita che va a gestire praticamente tutto il cucruzzaro dei temi. Ci sono poi altre applicazioni che sono state aggiunte, nuove applicazioni o meglio, che sono state aggiunte come applicazioni predefinite che praticamente ha la stregua di KD e anche GNOME ha un set di applicazioni che GNOME consiglia di includere in un'installazione predefinita di GNOME. Per GNOME 42 troviamo due nuove applicazioni del set predefinito e sono Text Editor e Console. Text Editor, come lascia presagire il nome, è praticamente un editor di testo scritto in GTK4 che è una faccia utente intuitiva che offre anche alcune funzionalità come il salvataggio automatico, funzionalità che ormai quasi tutti gli editor hanno. L'altra applicazione è Console che è la nuovissima applicazione Terminale che offre un'interfaccia utente moderna con varie di scorrimento sovrapposte, indicatore delle dimensioni sovrapposto in modo tale da poter andare a modificare rapidamente, una barra dell'intestazione che cambia colore per indicare quando siamo in route e quant'altro. Sia Text Editor che Console hanno una nuova e moderna interfaccia utente e schede e entrambi supportano anche lo stile dell'interfaccia utente scura ed hanno i propri controlli di stile per consentire di passare dal tema scuro al tema chiaro individualmente per ciascuna app. Poi ci sono tutti quanti i miglioramenti delle prestazioni. Il nome 42 include una serie di miglioramenti delle prestazioni che rendono il sistema più reattivo, una maggiore velocità generale o un minor utilizzo delle risorse. Infine troviamo il supporto PSR. Praticamente la funzionalità di desktop remoto esistente di GNOME è stata aggiornata per supportare il protocollo RDP. Ciò consente di avere un'esperienza di desktop remoto più sicura e ricca di funzionalità per coloro che desiderano connettersi remoto a un sistema GNOME. Maggiori informazioni comunque su GNOME 42 con screenshot e quant'altro che potete trovare nell'articolo dedicato sulle pagine di Marcosbox. E come vi avevo detto ad inizio puntata, questa sarà praticamente una puntata dedicata quasi esclusivamente a GNOME 42 direttamente per via del rilascio, indirettamente per via delle distribuzioni che si sono andate ad aggiornare che stanno includendo GNOME 42 come desktop environment, come versione del proprio desktop environment. Ovviamente alcune distribuzioni lo fanno in maniera pura e aggiornando tutto il cucuzzaro, altre distribuzioni, sapete bene a chi mi riferisco, invece fanno le solite cose che non si capisce perché alcuni pezzi vengono aggiornati e altri pezzi non vengono aggiornati. Indovinate di chi sto parlando, chi è che fa sempre le cose mishka-mishka, Ubuntu, perché è una feature di Ubuntu quella di aggiornare parzialmente, soprattutto quando ci troviamo vicini al rilascio delle versioni LTS. Io non ho mai capito questa stronzata che farà Canonical, però vabbè, ci sta nella loro mente, ci sta, perché non lo so perché fanno così. Vabbè, passiamo subito a parlare della distribuzione quella dura e pura che include tutto GNOME aggiornato, ovvero Fedora. Il Fedora Project ha annunciato la disponibilità della beta di Fedora Linux 36, come vi dicevo include GNOME 42, quindi Fedora Linux beneficerà di tutti quei miglioramenti con le nuove applicazioni di sistema, prestazioni migliorate, un aspetto più moderno, per gli utenti che utilizzano driver Nvidia proprietari, la sessione GDM che utilizza Wayland per impostazione predefinita. Non mancano poi i soliti aggiornamenti che ad ogni reese di Fedora ci sono, quindi il solito aggiornamento dei linguaggi di programmazione, delle librerie come Golang, Ruby e quant'altro. Vengono aggiornati ovviamente anche tutte quante le spin di Fedora Linux con le ultime versioni dei rispettivi desktop environment, le spin sono quelle edizioni di Fedora Linux con desktop environment alternativi. E degno di nota è che per tutti quanti i fan di LXQT ce l'arrivo della versione 1.0 di LXQT, quindi se installate la spin dedicata con LXQT potrete ottenere l'ultima versione stabile di LXQT. Per il resto, come al solito, vi rimando sulle pagine di Marcosbox per maggiori informazioni, link al download e quant'altro. E come vi dicevo prima, l'altra distribuzione che utilizza GNOME che si è andata ad aggiornare è Ubuntu perché è stata rilasciata la versione beta di Ubuntu 22.04 LTS nome in codice Gemmy Jellyfish. Ricordo a tutti che la versione stabile di Ubuntu 22.04 LTS verrà rilasciata il prossimo 21 aprile, quindi manca davvero poco. Questa beta include GNOME 42 che fa utilizzo di Wayland come sessione predefinita anche in presenza di driver proprietari Nvidia. Io l'ho testata, la sto utilizzando dal giorno prima del rilascio e si vede maggiori prestazioni in questa nuova versione di Ubuntu vuoi per le modifiche che sono state fatte a GNOME 42 vuoi per alcune novità che sono state introdotte su Ubuntu e ci sono alcune novità interessanti lato grafica. ne ho parlato in un video che ho pubblicato qualche giorno fa sulle pagine di Marcosbox dove vi faccio vedere in solitoni che cosa è stato modificato. Praticamente, che cosa hanno fatto? Hanno deciso di razionalizzare la gestione dei temi adesso abbiamo soltanto due temi prima avevamo un tema YARU che aveva Lederbar scura e il resto chiaro poi avevamo un tema YARU completamente chiaro e poi avevamo un tema YARU scuro adesso sono soltanto due temi uno completamente chiaro e uno completamente scuro è stata poi aggiunta una possibilità offerta anche da altri desktop environment in passato ovvero quello di modificare il colore degli accenti c'è un selettore con una serie di preset preimpostati con una serie di colore preimpostati per gli accenti andando a modificare l'accento non va a modificarsi soltanto il tema GTK il colore degli accenti del tema GTK ma va a modificarsi anche il colore degli accenti delle cartelle delle cartelle del tema YARU quindi va per esempio se mettete quella purple va a modificarsi l'accento del tema GTK ma va a modificarsi anche il bordino quello superiore delle cartelle predefinite del tema YARU quindi maggior rivelo di personalizzazione sotto questo punto di vista che non fa mai male anche se io poi alla fine l'ho provato un po' tutti quanti i temi ma l'unico guardabile è sempre il solito arancio Ubuntu l'altra grossa novità di questa nuova versione di Ubuntu lato grafica è il pannello laterale che adesso può trasformarsi in una dock sempre dalle impostazioni di sistema è possibile andare a personalizzare il pannello laterale e trasformare in una dock per renderlo l'aspetto diciamo così alla macOS non è un'esperienza diciamo completa perché per esempio non hanno abilitato il minimizzo to click sulla dock però comunque è una cosa carina e può far piacere a tutti quanti di quelli che in presenza di Ubuntu andavano a rimuovere il pannello laterale di Ubuntu per andare a installare altre estensioni per avere la dock in basso adesso è possibile farlo direttamente su Ubuntu vi rimando come sempre alle pagine di Marcosbox per avere maggiori informazioni su Ubuntu 22.04 per la beta di Ubuntu 22.04 Jamie Jellyfish per avere maggiori informazioni anche sui flavors ufficiali ovvero Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Baggio, Ubuntu Kirin Ubuntu Mate, Ubuntu Studio e Xubuntu che si sono andati ad aggiornare anche loro alla versione beta e vi invito a vedere il video che ho pubblicato sul canale YouTube che trovate linkato anche sulle pagine di Marcosbox dove vi faccio vedere tutte le novità grafiche di questa nuova versione di Ubuntu e infine è stata rilasciata la versione beta di PopOS 22.04 LTS conoscete questa distribuzione è la distribuzione sviluppata da System76 per equipaggiare i propri computer che però è liberamente scaricabile da qui dunque e che è basata sulle versioni stabili di Ubuntu questa beta della versione 22.04 di PopOS è basata, come lascia presaggire il nome su Ubuntu 22.04 LTS andando però a fare alcune modifiche andando a rimuovere il snap andando a mettere pacchetti in formato flat park e ovviamente andando a avere il suo consulito look personalizzato grazie a Cosmic l'interfaccia grafica sviluppata da System76 che va a rendere più produttivo Gnome Shell diciamo così questa versione di PopOS 22.04 LTS continua a essere basata sempre su Gnome Shell quindi non è la versione che stiamo aspettando tutti quanti del nuovo desktop environment scritto in Rust che System76 ci ha promesso ma è una versione classica quindi rimane ancora sul vecchio non hanno voluto rischiare anche perché attualmente è un gol di Zupro il nuovo desktop environment scritto in Rust di PopOS di System76 e quindi sono andati sul sicuro su questa LTS non l'ho provata personalmente quindi non vi so dire se va bene se va male se ci sono bug trementi che vi causano la distruzione del computer o quant'altro vi rimando ai vostri test fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa distribuzione sulle pagine di Marcosbox trovate il link alla pagina GitHub per poter scaricare le solite due ISO quella per chi ha hardware con schede video Nvidia quella generica per chi ha Intel e AMD infine parliamo di D-Pin che ha visto un nuovo aggiornamento un nuovo aggiornamento incrementale che ha portato D-Pin alla versione 20.5 quindi visivamente non ci sono grampiamenti estetici importanti però se controlliamo le note di rilascio possiamo vedere quanto gli sviluppatori si siano impegnati nel migliorare le applicazioni e introdurre alcune novità che per alcuni sono interessanti la novità più grande è il riconoscimento facciale perché sapete bene il riconoscimento facciale sta diventando sempre più popolare ed è ormai la consuetudine sui nostri dispositivi mobili con Android e iOS e adesso sbarca anche su D-Pin praticamente dopo aver registrato il nostro viso nel centro di controllo di D-Pin sarà possibile utilizzare il volto per poter accedere a D-Pin sia nella schermata di blocco che in quella di login quindi è una cosa interessante che rende il sistema operativo più moderno la cosa ovviamente dovrebbe essere fatta a tutto il locale quindi non statevi a fare le solite paranoie su D-Pin cinesi e bla 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 le solite cose anche perché utilizzate da centinaia di altre parti i vostri visi buttate su social network e quant'altro li mettete ovunque non vedo che cosa si devono fare gli sviluppatori di D-Pin della vostra faccia l'altra novità di questa nuova versione di D-Pin riguarda l'aggiunta della funzionalità che ci consente il pinning delle applicazioni nell'app screenshot che ci consente di effettuare degli screenshot di pinnare e spostarli sopra le altre finestre il D-Pin Store torna poi ad aggiornarsi sono state aggiunte delle voci per l'invio di feedback e la richiesta di aggiornamenti se abbiamo ad esempio un problema con l'installazione dell'aggiornamento di un'applicazione possiamo segnalare tutto tramite l'apposito pulsante che troviamo all'interno del D-Pin Store le altre funzionalità gli altri miglioramenti che sono stati fatti riguardano l'applicazione Maker ora supporta varie funzioni utili come la ricerca automatica della posta dopo la riconnessione alla rete la gestione delle cartelle personalizzate che è stata completamente ottimizzata e qualche altra modifica qualità che sono state fatte a tutto il QQS a tutto il desktop sotto il cofano di D-Pin 20.5 comunque troviamo il Kern Linux 5.10 e quindi siamo un po' indietro anche su questa versione speriamo che sia adeguino che venga rilasciata o meglio al più presto la nuova versione di D-Pin con l'aggiornamento del kernel e contratto e con la nuova aggiornamento della base su Debian e con questa ultima notizia si conclude qui questa 121esima puntata del podcast di Marcosbox dedicata quasi esclusivamente a GNOME come avete avuto modo di vedere come sempre vi ricordo che potete seguire i blog sulle pagine social quindi sulla pagina Facebook Twitter sul canale YouTube mi potete trovare sul mio profilo personale su LinkedIn potete seguire il blog anzi dovete seguire il blog tramite Telegram sono all'attivo tre canali abbiamo il canale principale che praticamente potete utilizzarlo come feed per i nuovi articoli troviamo la community Telegram di Marcosbox dove potete scambiare consigli chiacchierare fare quello che volete e infine trovate un canale Telegram dedicato alle offerte dove ogni tanto pubblica offerte che serve anche come diciamo così mezzo di supporto al blog perché tramite il link di affidazione Amazon se voi acquistate un prodotto che vi linko sulla pagina Telegram delle offerte delle offerte dedicate insomma ad Amazon voi il prodotto lo pagate sempre lo stesso però Amazon mi riconosce una piccola percentuale che può essermi utile per aggiornare l'hardware e quant'altro sapete bene che nell'ultimo mese mi è andata praticamente malissimo sotto il profilo sia umano per le varie vicissitudini con mio padre purtroppo anche se adesso sta meglio però non è passato il tutto comunque sta meglio fortunatamente e mi è andata male sotto il profilo hardware perché mi si è rotto la schiena madre mi si è rotto il processore il monitor e vabbè mi si è rotto tutto praticamente mi si è rotto sia l'hardware che la famiglia vabbè comunque dicevamo torniamo seri se volete supportare il blog potete supportarmi con il referral di Amazon o tra tutto trovate anche su Marcosbox il bannerone con il referral detto questo che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao